Va avanti il progetto della istituzione degli Infopoint con l'Eav e le scuole isolane, un altro incontro oggi. Salvatore Sodano, allora ci siamo, quindi l'estate arriva, arrivano anche questi punti di informazione. Sicuramente, stamattina è stata bellissima perché abbiamo discusso per circa due ore su come organizzare gli orari e i tempi e i turni dei ragazzi delle scuole per quanto riguarda gli Infopoint. Tra cui abbiamo stabilito le casette che verranno montate, messe a disposizione anche dal comune di Serrara, devo dire la verità che ne aveva alcune. E abbiamo fatto tutti i dispositivi, per cui entro la settimana prossima saremo pronti e partiranno otto Infopoint. Quindi i nostri giovani sul territorio abbiamo riscontrato un grosso successo. Sta piacendo a tutti, soprattutto ai turisti, ma anche alle associazioni che si stanno rivolgendo ai nostri ragazzi per dare più informazioni sul territorio. Anzi, forse qualcuno ha detto che ne diamo qualcuna di troppo perché poi qualche cicerone non ha più niente da dire. Però è bello perché i ragazzi sono entusiasti, noi siamo entusiasti, i dirigenti scolastici lo stesso e tutto lo staff dell'Eav. Tra cui colgo l'occasione per salutare ancora il dottor De Gregori, l'ingegnere Pignola che stanno facendo tanto, ma anche Pasquale Di Massa e gli altri dirigenti poi dell'Eav di Ischia. Siamo pronti per il 5 giugno a partire e mi auguro che questa cosa sia all'inizio, come il contratto vale per tre anni, quindi all'inizio di un'accoglienza proficua e di un'immagine dell'isola senza problemi e senza parlare di polemiche o di cose a volte un attimino grigie che imbruttiscono il territorio anziché a Bellillo. I nostri giovani sono forti, sono con noi e io spero una polla ragazzi di essere sempre più presenti, ma sono proprio bravi nelle informazioni, quindi mi sta piacendo, a me piace tanto. Se non l'ho detto io collaborerò pure io, magari passo con i tutor e venga a vedere che stanno facendo perché è piacevole stare con i giovani. Senti, 8 info point disseminati dove? Sì, ne avremo due a Ischia, poi si sargerà un terzo, però lo gestirà solamente il Nautico perché ha fatto richiesta proprio l'edicola di Ischia di Piazza degli Eroi che è fondamentale anche lì, ma non ce la facciamo con i tutor dell'Eav, quindi facciamo, quelli ufficiali sono due ad Ischia, uno a Casamicciola, uno a Forio, uno a Lacco, uno a Barano, praticamente Gioia e Maronti e uno a Sant'Angelo. Quindi avremo un info point sicuro per ogni territorio. Se funziona, se riusciamo, poi qui faccio un appello all'Eav di aumentare un pochettino il personale perché se vogliamo aumentare potevamo farne anche 10, però ci vogliono la presenza di tutor dell'Eav che devono essere sul posto e se facciamo troppo info point non abbiamo il personale sufficiente per garantire la tutela dei ragazzi.